In contemporanea con la pubblicazione della demo di eFootball Pass 2020 per PlayStation 4, Xbox One e PC, Konami ha mostrato anche la copertina ufficiale del prossimo episodio del franchise, in cui è presente un dettaglio decisamente interessante sul fronte delle licenze. Prima di esaminare questi elementi nel dettaglio, vi invitiamo, come di consueto, a iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche, per restare sempre aggiornati sui nuovi video di EveryEye.it. Tornando alla copertina di Football Pass 2020, tra i vari calciatori rappresentati trova spazio anche Miralem Pjanic della Juventus. Come sappiamo, il publisher giapponese ha stupito tutti a metà luglio acquistando in esclusiva la licenza della vecchia signora, costringendo il concorrente FIFA 20 ad adottare il nome di Piemonte Calcio per i bianconeri. In seguito, anche il Bayern Monaco ha stretto una partnership in tal senso. Ma incuriosire è un altro elemento. Sulla maglia del centrocampista bosniaco è ben visibile il logo della Serie A Team, la massima divisione del nostro campionato. I diritti legati alla Serie A negli ultimi anni erano completamente in mano ad Electronic Arts e FIFA. E il logo non può ovviamente essere utilizzato senza autorizzazione e possesso della licenza. Possiamo ipotizzare quindi che Konami abbia acquistato i diritti della Serie A Team, che potrebbe essere presente in PES 2020 esattamente come accaduto con il campionato brasiliano. Difficile sostenere con certezza se la licenza della prima divisione possa essere diventata esclusiva del brand Pro Evolution Soccer a discapito del gioco di eSports. Al momento quindi è impossibile sbilanciarsi e non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali in merito da parte di Konami. Di certo, se questo particolare indizio venisse confermato, ci troveremmo, dinnanzi, ad un altro colpo messo a segno da Konami sul piano dei contenuti. Voi cosa ne pensate? Dobbiamo aspettarci altre sorprese dai Football PES 2020? Diteci la vostra, come sempre, nella sezione dedicata ai commenti.